Oggi entreremo nel mondo di Terra Amara, concentrandoci in particolare su una figura che sta attirando sempre più l'attenzione, Chumali. Questo personaggio, introdotto di recente nella serie, afferma ripetutamente di essere il padre biologico di Uzum. Ma vi siete mai fermati a chiedervi se ciò corrisponda effettivamente alla verità? Esploriamo insieme questa intrigante questione. Nell'episodio di oggi abbiamo assistito a una scena particolarmente carica di emozioni. All'inizio Chumali sembrava calmo, quasi distaccato, senza versare una lacrima. Tuttavia, una volta che ha visto Sanye Gaffur iniziare a piangere, improvvisamente anche lui è scoppiato in lacrime. Questo cambio di comportamento è stato molto repentino, quasi troppo. A me è sembrato che il suo pianto fosse forzato, quasi come se stesse recitando una parte. Questo dettaglio mi ha fatto riflettere. Chumali sta davvero esprimendo le sue emozioni genuine o c'è qualcosa di più dietro il suo comportamento? Questa domanda ci porta a indagare più a fondo. Cosa potrebbe nascondere Chumali dietro queste lacrime apparentemente finte? Ci sono aspetti del suo passato o delle sue intenzioni che non ci ha ancora rivelato? La sua affermazione di essere il padre di Uzum potrebbe essere una mossa calcolata per qualche motivo nascosto? Queste sono domande fondamentali che potrebbero cambiare completamente la nostra percezione di Ciumali e della sua storia. Vi invito quindi a rimanere con me fino alla fine di questo video. Non solo continueremo ad analizzare il comportamento di Ciumali, cercando di capire se ci sono incongruenze o indizi che possano rivelarci di più sul suo personaggio, ma alla fine vi svelerò anche un segreto che potrebbe gettare una nuova luce su tutta la situazione. Questo segreto potrebbe essere la chiave per comprendere realmente chi sia Ciumali e quali siano le sue vere intenzioni. Quindi preparatevi perché le prossime rivelazioni potrebbero essere davvero sconvolgenti e potrebbero cambiare il modo in cui vediamo il personaggio di Ciumali in terra amara. Restate sintonizzati! Ciumali, un nuovo lavoratore alla tenuta Yaman in terra amara, crea tensioni per Saniye, Selin Jeninci e Gaffur Taskin, Bulent Polat. Questi, arrivato a Cucurova con un obiettivo specifico, minaccia l'armonia familiare che Saniye e Gaffur hanno costruito con Uzum, Neva Pecuz. Prima di proseguire, ti ricordiamo di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni. Alla tenuta, Ciumali convince Gaffur ad assumerlo offrendogli metà del suo stipendio ogni settimana. Gaffur, approfittando dell'assenza temporanea di Saniye, accetta. Cumali, tuttavia, appare subito strano, osservando attentamente gli eventi alla villa, quasi a voler spiare la famiglia Yaman. Saniye, al suo ritorno, è preoccupata dal particolare interesse di Cumali per Uzum. Si scopre poi che Ciumali è il padre biologico di Uzum. Dopo un'azione violenta da parte di Saniye verso Ciumali, Uzum rivela la verità, sconvolgendo Saniye e Gaffur. Questi temono che Ciumali possa voler portare via Uzum. Tuttavia, la presenza di Ciumali nella tenuta inizia ben presto a farsi sentire in modo significativo. All'inizio sembra che tutto proceda senza intoppi, ma col passare del tempo, la situazione inizia a cambiare. Ciumali diventa una figura sempre più influente e predominante, non solo nella gestione quotidiana della tenuta, ma anche nelle vite personali di Saniye, Gaffur e, in modo particolare, della giovane Uzum. Ciumali spiega di essere stato in carcere a seguito di una rissa e che non ha potuto prendersi cura di Uzum e della defunta moglie. Piena di emozioni chiede a Saniye di non cacciarlo, affermando il desiderio di essere parte della vita di Uzum senza separarla dalla famiglia Taskin. Questa crescente influenza di Ciumali inizia a creare tensioni e preoccupazioni all'interno della famiglia. Saniye e Gaffur, che avevano costruito con cura e amore la loro vita insieme e intorno a Uzum, cominciano a sentirsi messi da parte, quasi come se Ciumali stesse prendendo il controllo di situazioni che una volta erano sotto la loro diretta responsabilità. Per Uzum la presenza di Ciumali è ancora più significativa. Essendo il suo padre biologico, lei naturalmente si sente attratta da lui e vuole instaurare un legame. Tuttavia, questo nuovo legame con il padre potrebbe mettere a rischio la stabilità emotiva e la sicurezza che Saniye e Gaffur le hanno sempre offerto. La situazione diventa ancora più complicata quando Uzum inizia a passare più tempo con Ciumali, creando una sorta di divisione all'interno della famiglia. La trama di Terra Amara continua a svilupparsi con questi nuovi intrecci, promettendo ai fan della serie ulteriori sviluppi e sorprese. La storia, ricca di emozioni e colpi di scena, ci invita a rimanere sintonizzati per scoprire come questi complessi rapporti familiari si evolveranno nel corso degli episodi successivi. Nella trama coinvolgente di Terra Amara, uno degli aspetti più intriganti riguarda la figura di Ciumali e il suo ruolo nella storia. Sorge un dubbio significativo. Ciumali è davvero il padre biologico di Uzum? Alcuni di noi credono che la sua presenza a Villa Yaman non sia casuale e che abbia un obiettivo ben preciso, che potrebbe essere legato a Demir e Zuleya. Questa teoria ci porta a considerare diverse possibilità intriganti. Una di queste è che Ciumali potrebbe essere in realtà un complice di Akan. Se ciò fosse vero, quali potrebbero essere le sue vere intenzioni? Akan è noto per i suoi schemi e manovre, quindi l'alleanza con Ciumali potrebbe significare un ulteriore sviluppo nel piano di Akan per influenzare gli eventi a Villa Yaman. Un'altra possibilità è che Ciumali stia lavorando con Mit. Questa ipotesi apre un ventaglio di scenari intriganti. Cosa potrebbe guadagnarci Mit dall'avere Ciumali dalla sua parte? E come potrebbe questa alleanza influenzare il corso degli eventi nella serie? Queste domande aggiungono un altro strato di mistero e saspensa alla storia. Infine, non possiamo escludere che Ciumali possa essere in qualche modo collegato a Betul. Questa ipotesi solleva ulteriori domande su come tale alleanza potrebbe influenzare la dinamica dei personaggi e l'andamento della trama. Betul ha già dimostrato di essere un personaggio complesso con i suoi piani e segreti. L'aggiunta di Ciumali a questa equazione potrebbe portare a sviluppi inaspettati e sorprendenti. Secondo noi, Ciumali è un infiltrato di Akan all'interno di Villa Yaman. Ci avete fatto caso che durante l'assalto a Villa Yaman sembrava casualmente non essere presente? Ora, vorrei conoscere la vostra opinione su questo argomento. Credete che Ciumali sia realmente il padre di Uzum? Oppure pensate che sia collegato a Hakan, Umit o Betul per altri scopi a Villa Yaman? Le vostre teorie e osservazioni sono cruciali per approfondire questa discussione. Vi invito quindi a condividere i vostri pensieri nei commenti sotto a questo video. Ogni idea o ipotesi che avete potrebbe illuminare aspetti della trama che non abbiamo ancora considerato. Non vedo l'ora di leggere le vostre opinioni e di discuterne insieme. Scrivete quindi cosa ne pensate e restiamo collegati per scoprire insieme come si evolverà questa affascinante storia in Terra Amara. Per rimanere aggiornati su questi sviluppi, vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti su Instagram. Qui potrete trovare non solo anticipazioni sugli episodi futuri, ma anche analisi approfondite dei personaggi e delle loro dinamiche interne. Non perdete l'opportunità di immergervi ancora più a fondo nel mondo di Terra Amara e di scoprire come le vicende di Saniye, Gaffur, Uzum e Kumali si intrecceranno nei prossimi appassionanti episodi. Restate sintonizzati per non perdere nessuna delle sorprese che questa serie ha in serbo per voi.